Ancora no E' il hotel Dove marchiamo è uno dei trading post Infatti questo ha le villette Quella che ti da skier devi farla tutta in un ride no? Perché adesso te l'ha data la therapist questa Poi te ne chiedono un'altra da fare Abbiamo conquistato una zona Guidatemi Qualcuno mi copra Vado a fare una scam intanto Arrivo arrivo Alla strada dammi un attimo Facciamo insieme Andiamo su interchain Dov'è il... Dritto il... No il tavolino lì di pronte Vai avanti Un tavolino lì con dei medicinali No dietro Eh verso la cottage Verso la cottage Lo che c'è Lo che c'è Lo che c'è